Musica Musica Nuovo appuntamento con sport e salute. Quest'oggi andremo a conoscere e a capire meglio il rapporto tra scuola e sport e lo faremo con il preside Francesco Rosati del liceo scientifico ad indirizzo sportivo. Con lo sport invece andremo a conoscere meglio la preparazione atletica e quella agonistica delle atlete del CUS Camerino Volley, lo faremo con la nostra ospite Claudia Dolcini. Ed infine andremo a conoscere meglio il volontariato, l'importanza del volontariato con il presidente della Croce Rossa italiana di Camerino Gianfranco Broia. Buona visione. Attivo sul territorio Camerte dal 1915 parliamo del comitato locale di Camerino della Croce Rossa italiana. Parliamo della situazione attuale e delle prospettive future con il presidente Gianfranco Broia. Signor Broia, innanzitutto vogliamo parlare un po' della situazione che ha trovato al momento in cui ha preso l'incarico di presidente. Io ho dal 2006 che dopo la mia candidatura e la conferma con voti alla presidenza ho iniziato questa attività nonostante ero volontario da quattro anni indietro. Una situazione non molto perfetta, c'era un po' di carenza di mezzi, c'era una situazione un po' particolare, pochi volontari, un po' sacrificata. Adesso, come posso ritenere soddisfatto del comitato, di come sta andando, dei volontari, delle attrezzature, c'è stato un notevole miglioramento. Non è solo merito mio, tengo a precisare, è merito soprattutto dei volontari della Croce Rossa che ringrazio. Ha parlato di miglioramenti, vogliamo parlare un po' nel dettaglio dei miglioramenti, quindi di come si è sviluppata l'attività della Croce Rossa a Camerino in questi anni. Sì, insieme ai volontari, insieme alle componenti della Croce Rossa abbiamo acquistato delle attrezzature nuove, delle ambulanze, delle macchine, abbiamo ristrutturato la sede, abbiamo formato soprattutto delle persone per quanto riguarda i corsi, abbiamo degli istruttori. C'è stata tutta una serie di cambiamenti che ha dato lustro a questo comitato. E parlando delle attività, vogliamo parlare un po' delle sezioni e delle varie attività speciali che caratterizzano la Croce Rossa di Camerino? Sì, fino all'anno scorso la Croce Rossa era divisa in componenti e quindi avevamo i componenti dei volontari del soccorso, dei pionieri, del comitato femminile, oltre al corpo militare, le infermiere volontarie. Ora, come sappiamo, il cambiamento sta portando la Croce Rossa verso una componente unica che già è stato attuato, quindi abbiamo una componente unica dei volontari che raccoglie il comitato femminile, i pionieri che sono giovani della Croce Rossa e i volontari del soccorso. Sono tutti volontari della Croce Rossa. Per il resto il comitato femminile, scusate, le infermiere volontarie e il corpo militare è rimasto come ausiliario delle forze armate, quindi una componente a sé stante. Vogliamo parlare della sezione cinofili della Croce Rossa? Ho insistito verso il comitato regionale per attivare dei corsi, stiamo portando avanti un'attività che fa la Croce Rossa come un'attività di protezione civile, riguarda soccorso in acqua, ricerca su macerie e ricerca in campo. Quindi un'attività per ricerca dispersi e speciale. Oltre a questo abbiamo anche l'attività degli OPSA che insieme ai cani completano l'attività facendo soccorso in acqua. Anche le associazioni meritorie come la Croce Rossa italiana spesso si devono confrontare con delle problematiche. Quali sono secondo lei le problematiche più sensibili con cui si deve confrontare la Croce Rossa di Camerino? La Croce Rossa di Camerino si deve confrontare innanzitutto sulla conoscenza del territorio verso le istituzioni che sono un po' assenti. E nonostante noi abbiamo come attività, non solo attività di emergenza ma anche attività di formazione, abbiamo dei buoni rapporti con l'Università di Camerino ma per il resto vediamo un po' di latitanza. Parlando del futuro è in corso la riforma della Croce Rossa. Come evolverà il comitato locale di Camerino? La riforma della Croce Rossa ci porta a un'autonomia dei comitati locali ed a un ente pubblico che arriverà che sarà quello del comitato centrale e regionale. Si pensa di far scomparire i comitati provinciali, quindi vedremo nell'arco del 2013 che è l'anno della riforma della Croce Rossa dove andremo a collocarci dal 1 gennaio del 2014. La classifica vede al comando il Cus Camerino con 40 punti. Caldarola Volley 39, Pallavolo San Giustese 38, TRC Shipping 35, Mosca Elvia Recina 2034, Valfiastra Volley 30, Polisportiva Giovanile Lorese 27, Pallavolo Monte Cassiano 19, Pallavolo Recanati 16, Civitavolley 15, Sacrata Pallavolo 13 ed infine Panificio Fratelli Mari Matelica 0. Calendario della settima giornata, girone di ritorno. Panificio Fratelli Mari Matelica, Caldarola Volley, Sacrata Pallavolo, Pallavolo Monte Cassiano, Polisportiva Giovanile Lorese, Pallavolo Recanati, Pallavolo San Giustese, Civitavolley, TRC Shipping, Cus Camerino, Mosca Elvia Recina 2000, Valfiastra Volley. Preannuncia un finale di stagione emozionante per la squadra di volley del Cus Camerino, impegnata nel campionato di prima divisione femminile, ne parliamo con la giocatrice Claudia Dolcini. Claudia, c'è stato un movimento in classifica, avete momentaneamente perso la testa della classifica, ovviamente ora l'avete riconquistata, cosa è successo? Ci sono state varie battute d'arresto, varie incistitudini che ci hanno portato a perdere alcune partite, le prime in particolare del giro di ritorno, ma sabato 9 marzo abbiamo riconquistato la vetta della classifica ad un punto dal Caldarola che ha 39 punti e San Giustese che ha 38 punti. Sabato 16 giocheremo a Porto Potenza Picena contro TRC Shipping, una partita impegnativa in quanto molto stabile in difesa e si vedrà delle belle, sperando di riuscire a staccarsi dalla seconda e volare così in vetta la classifica. Facciamo un passo indietro, hai parlato prima della San Giustese, diciamo che la partita con la San Giustese che avete vinto al tie-break è stata un po' il crocevia del girone di ritorno. Sì, era una partita abbastanza impegnativa, tirata, in quanto anche loro puntavano alla vetta della classifica, ma con tanta grinta e forza di gruppo siamo riusciti a vincere e a portarci a casa anche questo match. Avete vinto questa partita dopo il periodo di crisi, le battute di arresto a cui hai fatto riferimento prima, quanto ha influito dal punto di vista emotivo, psicologico questa vittoria? Siamo state molto contenti, ci ha dato la grinta per continuare a vincere, che un attimo abbiamo perso la testa, non si sa neanche il perché, però adesso riconquisteremo tutto quello che abbiamo perso. TRC Shipping, hai detto che è il vostro prossimo avversario, ha battuto Caldarola, una delle vostre concorrenti per la vetta della classifica, secondo te quali sono i segreti per riuscire a battere questa squadra? Beh, sicuramente tanto spirito di gruppo e la grinta che non si deve mai abbandonare, grazie a Caldarola che è aperto contro TRC Shipping, così esce un po' dai primi posti in classifica. Abbiamo detto prossima partita contro TRC Shipping, dopo questa partita quanti altri incontri vi aspettano? Abbiamo altri quattro incontri, ma il più eclatante è quello contro Caldarola e speriamo che al ritorno vada meglio dell'andata, che è stata veramente una partita da dimenticare. Nell'andata ha influito anche il fattore campo, probabilmente? Campo, troppo nervosismo, tante varie cose che hanno influito alla perdita della partita. Questa partita contro Caldarola, che è uno dei vostri concorrenti diretti per la testa della classifica, è molto importante anche nell'ottica della promozione in Serie D? Sì, sicuramente la promozione, il trionfo, il premio per questo grandissimo campionato che speriamo di portarci a casa, sarebbe proprio la ciliegina sulla torta, come si suol dire. Grazie Claudio, in bocca al lupo a te e a tutta la squadra per questa partita contro Caldarola e per questo finale di stagione. Grazie a voi. Grazie a voi. La classifica vede al comando a Pignano 5 con 54 punti. E diamo lo sguardo al calendario della nona giornata. Girone di ritorno, questi gli incontri. Junior Matelica Cus Camerino, a Pignano 5 e di Artis Cingulum, Avenale Frontale Calcio a 5, Settempe da Calcio a 5, Camerino Calcio, Castelremondo Calcio a 5, Moscosi 2008, Serralta Virtus Matelica, Urbanita Sapiro Aurora Treia. Sport e scuola, un rapporto che in Italia non sembra essere sempre ottimale. Ne parliamo con il preside del liceo scientifico ad indirizzo sportivo di Camerino Francesco Rosati. Professor Rosati, a volte si ha l'impressione che rispetto ai paesi del Nord Europa il rapporto tra scuola e sport non sia stato ancora messo a punto. È vero oppure è una percezione sbagliata secondo lei? In realtà il Ministero prevede l'attività sportiva sia nei piani di studio che anche come attività complementare. Ci sono anche dei finanziamenti dedicati alle scienze motorie che vengono praticate dagli studenti al di fuori dell'orario mattutino. Quindi penso ai gruppi sportivi e quindi ai giochi sportivi studenteschi. È vero peraltro che l'attività condotta in maniera agonistica può in qualche modo ostacolare, se vogliamo dire, lo studio o quantomeno creare delle difficoltà. Lo studente che malconcilia uno studio liceale con un'attività praticata a livello professionale. Sono però dell'avviso che lo sport debba entrare a pieno titolo nella formazione dello studente perché non c'è solo un'attività praticata, ma le scienze motorie, non a caso ce lo spiegano i piani di studio che prevedono per questa disciplina, quella che si chiamava una volta educazione fisica, anche la valutazione orale, questa disciplina va trattata anche da un punto di vista teorico, perché gli aspetti dello sport sono moltiplici, non si tratta solo di praticare lo sport, ma anche di conoscere le implicazioni a livello della salute, del benessere, quindi il tipo di allenamento da compiere, come ci si alimenta, come ci si prepara ad un gesto atletico, per non parlare poi di fenomeni ancora più importanti che riguardano la socializzazione, l'aggregazione e quindi l'integrazione, cioè lo sport ha una valenza veramente così ampia che deve riguardare assolutamente l'ambito scolastico e la scuola se ne deve occupare a pieno titolo. Secondo lei è adeguato il numero di ore nella settimana scolastica che la scuola italiana dedica a questi aspetti? Se ci riferiamo all'orario mattutino no, però con attività complementari del Ministero finanzia si riesce poi a trattare la materia in maniera più completa, però spesso e volentieri queste attività riguardano un numero ristretto di studenti, parlo delle attività pomeridiane e non sempre vengono attivate celermente e poi c'è, come forse voleva un po' sottintendere lei, questa considerazione che lo sport sia un'attività di pura ricreazione per cui a volte sono gli stessi docenti di altre discipline che magari mal tollerano alcuni studenti che il pomeriggio non hanno potuto studiare perché impegnati in attività di tipo agonistico, invece bisogna a livello collegiale far capire che quella dell'attività fisica e sportiva ma anche agonistica è molto importante perché ha un elevato valore formativo. L'inaugurazione del liceo ha avuto luogo lo scorso 11 febbraio alla sala della muta del Palazzo Ducale di Camerino, che impressioni ha avuto da quella mattinata, come ha recepito il territorio questa novità? Beh, ho percepito molto entusiasmo da parte di tutti i partecipanti, a partire dal rettore dell'Università di Camerino che poi ha presentato attraverso la professoressa Gabbianelli il corso di laurea specifico di cui stiamo parlando. Abbiamo parlato, scienze e tecnologie del fitness, così come il presidente del CUS che è stato lieto di poter mettere a disposizione della comunità scolastica, le competenze dei tecnici del CUS e gli impianti sportivi, come pure la provincia, l'assessore provinciale ma anche il medico dello sport che abbiamo invitato. Insomma c'è tutta una comunità molto interessata a questo nostro indirizzo e ci fa veramente molto piacere perché le aspettative sono veramente importanti e i valori dello sport sono emersi pienamente da vari punti di vista, non solo professionale ma anche proprio a livello formativo. E poi è una comunità che mette a disposizione un investimento importante, come abbiamo detto più volte, questi impianti straordinari che ci invidia tutta Italia ed è bene che possano essere utilizzati non solo dagli studenti universitari ma anche dagli studenti delle scuole. Quindi io sono uscito veramente molto contento da questo convegno e ho percepito grande positività intorno alla nostra iniziativa. In conclusione, professor Rosati, cosa si aspetta da questa scuola? Veramente di formare intanto dei professionisti dello sport, poi non importa che tutti diventino degli atleti, ripeto, l'ho detto più volte, il regolamento prevede di formare varie figure ma aspetterei di diversificare in base anche alle esigenze, alle aspettative, ai talenti dei nostri iscritti e quindi di formare un ventaglio di professionalità da mettere poi a disposizione del mercato e quindi creare insomma una serie di esperti e quindi la scuola contribuisce in un certo senso a formare queste professionalità di cui il mondo dello sport secondo me ha ancora tantissimo bisogno pensiamo a tutte le problematiche legate agli eventi anche luttuosi nel campo dello sport e quindi evidentemente anche nel settore della medicina e dello sport bisogna fare ancora molto e questo tipo di scuola secondo me viene incontro anche nella direzione giusta di formare dei professionisti seri. Grazie al professor Francesco Rosati, preside del liceo scientifico e indirizzo sportivo e in bocca all'uvo per questa nuova istituzione. Ed anche per questa settimana è tutto con Sport e Salute ringraziamo tutti gli ospiti che ci hanno permesso di realizzare questa trasmissione e prima di salutarvi ricordiamo i siti web di riferimento del programma l'appuntamento con Sport e Salute è anche in audio su Radio Studio 7 il giovedì alle ore 20 e 35 con replica il sabato alle ore 16 e 35 dalla redazione di Camerino grazie per l'attenzione e appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti!